RadioBari.com, persone speciali su Radio Bari E la persona speciale di questa mattina è Livio Costarella, buongiorno Livio, ben ritrovato Buongiorno a tutti, ciao Barbara Abbiamo un po' di cose di cui parlare oggi, però ho detto sarà una puntata tutta dedicata al cinema fondamentalmente perché sta arrivando proprio in questione, magari è già arrivato qui a Bari Rocco Papaleo perché sta promuovendo il suo ultimo film, l'ultimo film che ha diretto ovviamente Onda su Onda che vede come protagonista Alessandro Gasman Sinceramente avrei preferito anche che ci fosse Gasman qui a Bari Che sto sentendo da tutti, ma c'è anche Gasman, c'è solo Rocco Papaleo Accontentatevi del buon Rocco che comunque, sì è vero, è giunto al suo terzo film dopo Basilicata Coast to Coast è una piccola impresa meridionale, anche questo film lo hanno inserito in quel filone che chiamano il Jazz Cinema di Papaleo perché la colonna sonora è scritta da lui, il film è attraversato da una serie di canzoni e anche perché il personaggio che lui rappresenta è questo cantante un po' squattrinato che deve cercare finalmente di fare il concerto della sua carriera a Montevideo in Uruguay e incontra sulla nave questo cameriere che è un po' un cameriere atipico perché non è mai sceso da questa nave e pare che non voglia assolutamente fuggire da questa gabbia che si è creata naturalmente fra i due si crea una sorta di scontro all'inizio che poi però piano piano si stempera e quindi i due diventano poi, vabbè, e questo non lo diciamo non lo diciamo, non lo svegliamo anche perché ci sarà la proiezione in anteprima questa sera al Galleria con il saluto ovviamente di Rocco Papaleo al pubblico sì, stasera c'è Papaleo al Galleria che saluterà il pubblico come sempre saranno pochi minuti per introdurre il film per scambiare anche qualche chiacchiera con lui per potersi chissà magari scattare anche qualche foto sicuramente è molto molto disponibile, devo dire la verità no, 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 Rocco è molto tranquillo e devo dire, sì, sì, sì è uno dei nostri artisti del sud Italia insomma tra quelli che preferisco sinceramente devo dire che cinematograficamente Basilicata Cost to Cost mi era piaciuto tantissimo secondo me resta un piccolo capolavoro degli ultimi anni una piccola impresa meridionale non ha invece avuto lo stesso successo e la stessa fortuna adesso vediamo questa onda su onda come andrà intanto lo potremmo vedere già da questa sera il film esce? il film è già uscito è già uscito giovedì scorso, giusto? il film è già uscito da una settimana e quindi infatti arriva un po' in ritardo lui perché sta facendo un tour di presentazioni però a Bari era previsto e quindi era già previsto sabato scorso poi ha dovuto spostarlo e quindi siamo arrivati a mercoledì sempre più registi scelgono Bari per presentare gli ultimi lavori eravamo un po' abituati alle produzioni made in Puglia nel senso i film girati in Puglia con il supporto della Puglia Film Commission però a quanto pare ultimamente negli ultimi mesi ci sono tanti tantissimi registi che pur non avendo nulla a che fare con la nostra regione ma amandola semplicemente scelgono il capoluogo pugliese per presentare i loro prodotti sì è vero, beh è inevitabile se ricordi qualche anno fa addirittura c'erano degli incontri che venivano fatti a Feltrinelli con gli attori, con i registi, con il cast cosa che adesso un po' si è persa perché le produzioni tendono un po' a risparmiare anche insomma sui viaggi e sui continui spostamenti però è indubbio che avere la presenza dell'attore in sala è anche una bella novità per il pubblico che insomma ha la possibilità di vedere il proprio attore o il regista che ha fatto il film direttamente in sala il cinema è una di quelle forme d'arte che non ti consente quasi mai di vedere i protagonisti dal vivo se non nei festival, se non in situazioni particolari e poi per come è curioso il pubblico barese il pubblico barese devo dire non manca mai da questo punto di vista è un pubblico che risponde sempre bene e Bari è una città molto viva da questo punto di vista e quindi probabilmente la scelta della location Bari per presentare i film sanno che è una scelta quasi sempre di successo il passaparola c'è stato insomma, meno male funziona sempre Livio allora questa sera appuntamento al Galleria con Rocco Papaleo è la proiezione ovviamente di onda su onda a che ora? alle 20 e 30 invece parlando sempre di novità anticipiamo qualcosina per quanto riguarda il multicinema Galleria perché ritorna a distanza di mesi l'appuntamento con il cinema al buio il cinema al buio il quarto appuntamento di cinema al buio ritorna a distanza di mesi perché l'appuntamento che dovevamo fare in estate è saltato all'ultimo istante perché era i primi di settembre purtroppo i primi di settembre sono una data in fausta per il tempo perché pioveva e quindi essendo un appuntamento all'aperto in quel caso non l'abbiamo potuto più organizzare ma è stato solo rimandato probabilmente ripeteremo quell'idea già a giugno mentre invece adesso venerdì 4 marzo vi aspettiamo tutti alle 21 è un cinema al buio un po' diverso dal solito perché l'abbiamo definito special game è un'edizione di cinema al buio che non prevederà stavolta questo possiamo già dirlo la proiezione di un film intero ma naturalmente è una serata tutta dedicata al cinema in cui si giocherà sul cinema per cui chi acquisterà il biglietto verrà diviso in squadre bellissimo e attraverso queste squadre che avranno un dress code cinematografico ognuna avrà un dress code cinematografico immagina cosa succederà insomma diversi generi cinematografici? sì assolutamente quante squadre saranno? se riempiamo la sala saranno circa una trentina di squadre quindi sono tante da ciascuna squadra da quanti concorrenti? da 10 infatti stiamo anche dicendo agli spettatori che se loro hanno già una squadra da 10 persone possono iscriversi già come squadra direttamente ah che bello non verrete divisi esatto quando si facevano i giochi a scuola avevi paura di essere però capitano sono anche quelli che si iscrivono che sono pochi che non sono 10 dove ci si può iscrivere Livio? alle case del Multicinema Galleria si possono comprare già i biglietti che costano 10 euro e che prevedono non soltanto la serata in sé ma insomma la serata è gestita anche in collaborazione con AMP Hamburgeria di Puglia per cui insomma ci sarà anche la possibilità di degustare qualcosa quello non manca mai quello non manca mai e poi sui nostri social come sempre Facebook Multicinema Galleria Twitter Cinemagalleria dove siete parecchio parecchio attivi eccetera eccetera allora 4 marzo alle 21 Cinema al Buio invece questa sera alle 20.30 appuntamento con Rocco Papaleo e Onda su Onda ovviamente sempre al Multicinema Galleria grazie mille Livio Costarella per essere stato qui con noi grazie a te Barbara grazie come sempre io restituisco la linea alla regia di Telebari ringraziando Federico Semplice ma continuiamo con Radio Bari su Radio Bari 88.8 www.radiobari.net tra poco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti